Scuole Irpine libere dalla plastica, a cominciare dagli istituti superiori. Sono oltre 2.300 le firme che accompagnano questa istanza consegnate al presidente della provincia di Avellino, Domenico Biancarti, da parte dell'Associazione Ossigeno Sezione Young. Una petizione che ha convolto proprio gli studenti di tutte le scuole superiori della città, rappresentati da una delegazione a Palazzo Caracciolo. Con loro il presidente di Ossigeno, Luca Cipriano. Scopo dell'incontro è appunto chiedere al vertice dell'ente di adottare misure concrete per le scuole di sua competenza attraverso distributori automatici ecosostenibili, l'eliminazione dove possibile della plastica e la fornitura agli alunni di borracce per le belande. Positiva la risposta di Biancarti che si è impegnato a perseguire questo obiettivo. Abbiamo chiesto appunto di partire dalle scuole per dare a tutti gli studenti una coscienza più ambientalista, proprio possiamo partire da esempi molto semplici come creare dei distributori più ecosostenibili possibili, quindi cercando di eliminare il più possibile la plastica e rendere anche appunto questi distributori di merendine e bevande anche più salutari per gli studenti e poi degli interventi più a lungo termine come possono essere ad esempio la distribuzione di borracce a tutti gli studenti della provincia. Dobbiamo fare perché vedere qua ragazzi giovani che sono così legati al territorio e all'ambiente, venire qua a parlare di queste cose e portare 2500 film circa per una cosa del genere, beh ti fanno pensare insomma, quindi ci sarà l'impegno della provincia in questo senso dove addirittura loro dovranno essere protagonisti insieme in questo momento alla provincia per fare questo percorso.